ciao a tutti amici della buona cucina benvenuti su basilico channel oggi facciamo una ricetta davvero squisita si tratta delle patate al forno una ricetta facilissima ma vi darò delle ottime indicazioni per realizzare un piatto davvero squisito vediamo gli ingredienti e poi passiamo alla preparazione per fare le patate al forno useremo 1,5 kg di patate rosmarino, peperoncino pepe nero 100 ml di olio d'oliva un cucchiaio e mezzo di sale e poi 2-3 spicchi d'aglio adesso vado a pulire le patate e li metto in un condivintore tagliandoli a spicchi bene così questa teglia vedete ho messo già la carta da forno faccio vedere solo come realizzo come andiamo a tagliare con un bella patate facilissimo bene così una volta sbucciate lavare nell'acqua fredda bene così siamo arrivati al punto possiamo condire iniziamo mettendo il sale poi mettiamo del pepe nero e adesso mettiamo il rosmarino cerchiamo di parlo piccolo buonissimo profumo buonissimo profumo questo rosmarino una pianta qui a casa e continuo con rosmarino rosmarino ci sta molto bene ci sta molto bene preparate così abbiamo messo tutto no l'olio ok lo mettiamo alla fine sopra andiamo a mescolare bene non mi preoccupate posso fare anche così così sicurezza mettiamo anche l'altro pochino di sale non vogliamo che siano poco saporite ci siamo? sì possiamo adesso passare nella teglia adesso l'ultimo ingrediente che mettiamo sono gli spicchi d'aglio si mettiamo così interi un attimo che lo pulisco ecco qui solo magari tagliate a metà se è grande poi alla fine lo andiamo a togliere ma è davvero ottimo con le patate l'aglio anche se non lo mangiate l'aglio generalmente consiglio di metterlo e poi togliere bene vedete così sono pronte abbiamo condito perfettamente bene le patate al forno sono pronte vedete le abbiamo fatte un po' durare e così possiamo impietarle vedete mettiamo questo contenitore grande facciamo in modo da togliere l'aglio un buonissimo profumo di patate al forno davvero squisite mettiamo olio in eccesso mettiamo olio in eccesso lasciamo qui nella teglia e completiamo di realizzare la teglia messo la carta da forno proprio per evitare che si potessero attaccare ma anche permette di evitare che si asciughino troppo bene siamo quasi vedete queste vanno benissimo fino a 6 persone sicuramente saranno un ottimo contorno per una cena visita ecco a voi le patate al forno buon appetito avete visto piccoli recorgimenti ma un riuscito davvero ottimo buonissimo allora non vi rimane che iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e continuare a seguire il profumo della buona cucina ci rivediamo qui su basilico channel con tantissime altre nuove ricette ciao grazie di aver seguito la ricetta ciao 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 ciao